Siamo tornati sullo svincolo della provinciale di cui vi avevamo parlato qualche settimana fa per lo stato indecente in cui versavano le condizioni per la grandissima quantità di rifiuti che era stata abbandonata dagli incivili. Bene, l'intervento non è stato immediato, sono passate qualche settimana, però oggi possiamo vedere, e così non era la settimana scorsa, che finalmente è stata ripulita la rampa di uscita.